Buongiorno, è un piacere parlare con voi. Mi chiamo Daniel, abito a Valparaíso di Goiás. Ho 33 anni, sono sposato e ho una bellissima figlia chiamata Anna Clara, di 7 anni. Ho iniziato il corso del professor Silvano Formentin il 6 febbraio. E il 27 settembre l'ho concluso. Allora, questo corso ha cambiato tutte le mie aspettative di vita. Dal momento che parlando l'italiano posso sognare di essere in quel bellissimo paese. Conoscere le mie origini e pianificare una nuova vita con la mia famiglia. Adesso, quanto a te, professor Silvano, voglio ringraziarti per avermi insegnato non solo l'italiano, ma per essere diventato una persona migliore con la capacità di realizzare i miei sogni. Prima, inimmaginabili. Grazie mille di cuore. Arrivederci.